Torniamo ad allenarci, vero? E mi sono rotto otto dita dei piedi durante l'allenamento. Otto! E sapete che allenamento ho appena fatto? Quello delle esultanze. Ma perché? Continua ad avere... Eh vabbè, ho capito, devo andare a farmi operare il piede. Eh vabbè, ma cos'è quest'uomo? Ma ma è... Bentornati ad un nuovo video dedicato al simulatore di vita con più DLC che main content. BitLife. Sì, ne hanno rilasciato uno nuovo e no, non intendo comprarlo. Quindi cosa faremo quest'oggi? Turneremo nel mondo dello sport professionistico per cercare di diventare il miglior giocatore di football americano di tutti i tempi. TR, per caso, tu ci capisci qualcosa di football americano? Nope, assolutamente niente. Chissà se riusciremo a diventare il goat di una disciplina che neanche conosco. Probabilmente sì. Prima di cominciare però vi ricordo che tutti i giorni da lunedì a venerdì mi trovate in live qui su YouTube a partire dalle ore 7. Quindi mi raccomando, iscriviti per non perdere nessun contenuto live, short e video. E ora salutiamo il signor Mario Rossi morto a 98 anni dopo una vita normalissima che in realtà tanto normale non è stata perché a un certo punto ha pure adottato un bradipo di nome Antonio. Mi manchi ancora, Antonio. Mi manchi ancora. Ma in ogni caso ora concentriamoci sul nostro nuovo protagonista che sarà sì statunitense in quanto gli Stati Uniti sono per l'appunto la patria del football ma non si chiamerà Lucio Birre, bensì NFL. Capito, no? E-ne-i-fell. E-ne-i-fell. Ossia la National Football League. Ah, smash a like per questo pessimo nome. Nato il 9 marzo ad Austin, Texas, ha una mamma bibliotecaria, un papà fotografo e una sorellina di nome Velma che ha solo 5 anni. Più il gatto di nome Cavaliere. Che nome importante per un gatto. E ho appena trovato un quadro dal valore di 850.000 dollari in cantina. Benissimo! In termini di salute siamo messi piuttosto bene. Non so quanto sia atletico il buon Enei ma poco importa, gli faremo fare camminate sin da subito. Intanto i nostri primi due anni sono stati noiosissimi, non è successo niente. Mentre apparentemente in Giordania hanno iniziato a creare delle alternative a base carne di quella che è la frutta e la verdura. Cioè è il contrario del tofu, è l'antitofu, è il famigerato ufot. Che cosa magica. Allora posso già iniziare a fare le passeggiate, non ancora. Siamo dei mezzi caproni però la cosa non va bene e quindi mi tocca studiare il più possibile affinché mi facciano poi giocare a football americano altrimenti il video cade prima ancora di iniziare. Dopo un'intensa sessione di dolcetto scherzetto ti ritrovi più dolciumi di quanti tu ne possa consumare in un anno. Che cosa fai? Li mangio tutti ASAP. Pessima idea Enei. Tra l'altro è tutto quanto a tema Halloween, giustamente. Sto registrando il video il 25 di ottobre. Ci sta che sia tutto quanto Halloweenesco. Posso cominciare ad andare a fare le camminate? Sì, finalmente, alleluia. Prima degli otto anni vietato camminare. Potrei aver fatto un casino, praticamente un tizio stava spargendo falsità riguardo il mio conto. L'ho detto alla mia sorellona e lei gli ha spezzato la colonna vertebrale. E bucato un dente. Non ho idea di come, però l'ha fatto. Ed evidentemente non è in carcere. Grazie, Velma. Ma come sono conciati i miei genitori? Perché mio papà c'ha una zucca in testa? Ah, perché Halloween, giustamente. Ah, yes. Il mio primo bacio con Anita Collins. Solo a stampo, niente lingua. Sono una brava persona io in questa vita. Eh, ad Anita non è piaciuto. Oh sì, Paranormal Activity. Abbiamo visto una presenza paranormale vicino a un campo di zucche. Andiamo a investigare. Era una coperta spinta dal vento. Eh, giustamente. Ha tra l'altro iniziato le scuole medie. Quindi, essendo alle medie, forse ho la possibilità di giocare a football. Il vero, yes. Non mi hanno preso. Ho fatto un po' di judo. Ora sono un attivino più atletico, per caso? Chiedo per un amico. No? E allora si va in palestra, cazzo. Ora sono messo meglio. Dai, è vero che mi accettate? Yes! E dopo un singolo anno di football americano abbiamo un nuovo sintomo, ossia l'irritabilità. Probabilmente dovuto dal fatto che c'hai 13 anni e non da una questione fisica. Però, boh, andiamo dal dottor Roach. Che dice che soffro di insonnia. Ah, bellino. Cioè, in realtà, per niente è bellino, però ok. Ah, così, senza preavviso hanno divorziato i miei genitori. Vabbè, va bene. Basta che non vi risposiate, così mi entra tutta l'eredità e per il resto non me ne frega un cazzo. E comunque, finite le medie e si passa alle superiori, dove spero mi prendano anche qui al team. Yes! Tra l'altro, giusto per curiosità, posso vendere il mio quadro? Anche se lo vendo a 700 mila è comunque un milioncino di dollari che mi entra in tasca. Nessuno lo vuole, però. Bah, vabbè. Continua ad allenarti, perché magari riusciamo anche a diventare capitani. E se diventiamo capitani mentre facciamo i quarterback, si scopa da morire a scuola. I film americani sulle superiori mi hanno insegnato questo, eh. Che i quarterback sono quelli più fichi e quelli che scopano di più. Ah, e anche quelli che si possono permettere di bullizzare gli altri. Quindi, sai una cosa? Diamo fastidio al signor Luke de la Tour. In realtà gli ho semplicemente messo un cuscino che scurengia sotto la sedia. Nulla di che, vabbè. Nulla di così interessante. Anzi, la classe l'ha odiata, sta roba. Mamma mia, grazie mamma per la magica Volvo S90. Non ho idea di che macchina sia, comunque. Beh, bellina. Cioè, poco adatta ad un neopatentato, forse. Ma non è male. Figa quanto costa. Va bene. Ah, l'ho vista troppo tardi. E vabbè, e mocio agli occhiali. Quali sono degli occhiali ganzi da giocatore di football? Nessuno di questi. Signori, è ufficialmente morto il cavaliere. Signor Knight, è stato un piacere. E yes, stiamo per diventare capitani della squadra di football al nostro quarto anno di superiori. È certo che voglio fare il capitano, scherzi. Io faccio capitano. Semi cheat. E ok, signori. Finita la squadra superiore, teoricamente dovrei poter entrare direttamente nel draft. Anzi no, balle, devo prima fare l'università. Che cosa facciamo di bello? Boh. Informazioni dei sistemi. Non so neanche che cosa sia, ma va bene così? E posso gioinare una fraternità? Bello. Allora, dove possiamo... No, questi qua sono i professori. Posso flirtare con i professori? Fico, aspetta che ci provo. Non gliene è fregato niente la dottoressa Carter. Vabbè, come non detto. Però posso gioinare una fraternità? Tipo una di quelle stupide. Oppure ancora meglio il Sigma Nu. Perché mi ricorda, che ne so, Pingo che fa... Però Sigma, quindi vai con questo. Mi hanno rifiutato. Va bene, come non detto, mi faccio i cazzacci miei. Questa raga è molto hot come confraternita. La tua compagna di università Keisha Sato ti ha chiesto di uscire. Sai una cosa? Accettiamo. È una bella ragazza, è molto popolare. Magari posso anche entrare in una qualche stramaledetta confraternita. In tutto questo l'esercito ugandese ha appena invaso Taipei. Ma perché? Ma soprattutto perché l'hanno fatto pisciando sui marciapiedi e blastando i Backstreet Boys? Ma soprattutto perché questa cosa è stato il motivo che ha fatto chiudere la guerra dopo 13 anni? Taiwan! Ti arrendi così per via dei Backstreet Boys e un po' di pipì. Va bene. Che ti devo dire? La mamma ha le emorroidi. Grazie mamma! E la mia ragazza vuole fare il sesso. Va bene. Facciamolo. Siamo stati bravi. Yeee. Porca di quella puttana. Ma figa. 100% di precisione. Dei cecchini. Era un po' troppo presto. Non l'abbiamo tenuto. Tra un po' quando avremo dei soldi. Perché ora ne ho letteralmente zero. Mi risulta un po' difficile. Dopo un paio d'anni che gioco in Eneifel volentieri. Comunque ora sono il capitano della squadra di football. Bellissimo. Sono anche il più fico, il più tosto, il più forte. E con l'università che giunge al termine dopo tipo 3 o 4 anni sinceramente ho perso il conto. Possiamo finalmente entrare nel draft. Sicuramente saremo una delle prime 3 o 4 scelte così a occhio. E non ci viene detta la pick ma siamo stati comunque selezionati dai Tennessee Whiskey. Tennessee Whiskey. È come se noi avrissimo che ne so. Una squadra di calcio chiamata Lombardia Amaretto. Ma perché sta roba? Comunque ci hanno presi come linebacker che non ho idea di che ruolo sia. E ci darebbero circa un milioncino per i prossimi due anni. Sai una cosa? Io ci sto. Accetto. Accetto. Ora giunti a questo punto la mia domanda diventa Chi è il GOAT dell'Eneifel? Quanto ha vinto individualmente e come squadra? Sì ok dovevo immaginarmelo che fosse Tom Brady. Lo conosco anch'io che non ho mai seguito e mai visto manco mezza partita di Eneifel. Ha vinto 7 Super Bowl e 3 MVP. Più due titoli come miglior giocatore offensivo. Non ho idea di quali titoli possano essere attribuiti qua dentro. Però poco importa. C'è anche un qualcosa per tipo che ne so il miglior rookie. Non mi pare. Quanto meno se c'è lui non l'ha vinto. Riusciremo a batterlo? Boh ho un ruolo completamente diverso. Quindi forse non lo so. Fatto sta che magari conviene allenarsi un pochettino. Vero? E a giudicare dalle statistiche che posso allenare mi sa tanto che sono un giocatore prettamente difensivo. Posso soltanto investire le persone, difendere ed esultare. Basta. Spero vengano pagati bene. Ecco che cazzo lo sapevo. Appena ho iniziato a giocare già mi sono distrutto qualcosa. Mi sono stirato la stringa del prosciutto. Cos'è la hamstring? È un muscolo ischio crurale. La coscia. Mi sono fatto male alla coscia. Sarà il famoso bicipite femorale. Probabilmente è lui. Ok comunque vedo che allenarsi più di un tot non ne vale la pena. Massimo due allenamenti per categoria all'anno eh. Non di più. E mi sono rotto l'alluce. Ma figa ma semplicemente facendo cardio. Com'è possibile? Vabbè il primo anno l'ho passato tutto fuori per infortunio quindi. Vero? Oh no attenzione. Gene for the win. C'è un nostro compagno che sta performando benissimo ma ogni volta che performa bene odora di alcol da matti. Non dico niente lo lascio fare guardate. Comunque non credo di aver fatto una gran stagione nel senso la squadra ha fatto schifo. Ha vinto tre partite su sedici. Siamo arrivati venticinquesimi su trentadue e noi abbiamo fatto due intercettazioni. 45 tackles e due sacchi. Sacchi di cosa? Perché? E si è rotta la macchina. Va bene. Allora a livello di forma fisica siamo messi bene. Io non tocco più niente. Andiamo semplicemente ad allenarci per bene in campo. Due allenamenti per il tackling. Due allenamenti per il defending. E ben due per le esultanze. Cioè cose importanti vedo. Nel bel mezzo di una partita contro i Las Vegas Gamblers un loro giocatore ti guarda e ti dice Se fossi un Pokémon saresti Quagsire. Ma fra ma questo è un complimento è mica un insulto. È così carino Quagsire. Diamogli un bacino e ringraziamolo. Mi ha distrutto l'orecchio e mi ha fatto venire un livido sulla mano. Ma perché? Ma cosa ho fatto? Ma ma perché sei stronzo? Comunque leggermente meglio sta stagione. Più tackles. Sempre lo stesso numero di intercettazioni di sacchi. Abbiamo vinto una partita in più. La vedo malissimo per il nostro Enei. Però attenzione perché abbiamo un'offerta per rinnovare il contratto. 13 milioni e due per tre anni. Posso avere un po' più di soldini? Mi hanno detto fottiti nel culo. Ok. E vabbè accettiamo. Non me la sento di rifiutare di tentare di andare altrove perché non sono ancora abbastanza buono. Quindi è possibile che le altre squadre mi piscino. E ora ho malissimo al petto. Bene vai dal dottore. Dottor Roach salve. La polmonite. E vabbè ma quest'uomo è una sfiga dopo l'altra fisicamente. Ah cazzo sono famoso posso fare una pubblicità? Eh niente. Posso andare a un talk show magari? Eh niente. Posso fare un photoshoot? Eh niente. Posso scrivere un libro? Niente. Ciao Keisha facciamo del gran sesso. Non vuole perché ha appena finito di schiaffeggiare un'ostrica? In che senso schiaffeggiare un'ostrica? Cosa mi significa? Oh forse ho capito cosa mi significa. Non me l'aspettavo questa roba da BitLife ma va bene. Torniamo ad allenarci vero? E mi sono rotto otto dita dei piedi durante l'allenamento. Otto. E sapete che allenamento ho appena fatto? Quello delle esultanze. Ma perché? Continua ad avere... Eh vabbè ho capito devo andare a farmi operare il piede. Un coglione. Eh vabbè ma cos'è quest'uomo? Ma ma è... Perseguitato dalla sfiga. Ho fatto due allenamenti per le esultanze quest'anno. Due. Prima mi sono rotto otto dita e poi mi sono rotto il tendine d'Achille. Eh vabbè cos'è devo fare... Devo fare quello no? Devo per forza operarmi non posso sistemarlo con la fisioterapia. Eh vabbè. Partite giocate quest'anno? Zero sicuro. Steven Khan. Questo tizio ha appena detto di seguire le nostre partite soltanto per guardare le mie chiappette attraverso l'uniforme. Eh grazie. Vuoi un autografo? E comunque sì per via di tutti gli infortuni ho saltato 11 partite su 16. Voi direte a Tiar come giocano soltanto 16 partite? Questo lo sapevo. La regular season delle NFL è di sole 16 partite e probabilmente perché prendono tante di quelle botte che di più non ne possono giocare altrimenti è proprio dannoso per il loro corpo. Ah e in tutto questo mi hanno scambiato una squadra nettamente più forte, i Tampa Bay Maties. Gli amicini, grandi Tampa Bay amicini. Sì sì mi sta bene, sono una squadra migliore di quella attuale quindi a me sta benissimo. Allora gentilmente quest'anno potremmo non infortunarci. No, chiedo per un amico. In realtà chiedo per me stesso. Ma è possibile, mai. Uno non può neanche allenarsi che muore, ogni due secondi muore questo coso. Allenamento 1, niente infortunio. Allenamento 2, incredibilmente, niente infortunio. Allenamento 3, niente infortunio. Allenamento 4, ti prego. Niente infortunio, mancano gli ultimi due per le esultanze. Eh vabbè ma che cazzo vuol dire? L'ACL! Ah no, l'ACL è il legamento crociato anteriore, quello del ginocchio, quello del braccio è il UCL. Però porca puttana, ma è possibile, mai, per favore. Niente, stagione saltata. Ma che cazzo vuol dire per giunta? Basta, non alleno più le esultanze, non ha senso, ogni volta mi distruggo. Vai, schippa, ma tanto salterò tutto quanto. Cosa succede? Ah vabbè, il classico disastro naturale che distrugge completamente lo stadio. In ogni caso la squadra ha concluso con un record di 8-7-1. Cosa mi significa? Possono finire in pareggio le partite di NFL. Questo io lo scopro ora, fichissimo. Comunque ho misato 6 partite e la squadra è arrivata al 17esimo, giusto per curiosità, chiedo. Ah aspetta, il test antidroga, sì sì sì, tieni, tieni. Tutto a posto! Come è arrivata TNC? Sicuramente davanti a noi, 100-100, stai a vedere. E invece no, bastardi, 22esimi, tiee, tiee! Ora come detto, semplicemente, tackling e defending. Tuckling e defending. Tentiamo un terzo allenamento per tutte e due, ma sì dai, tentiamola. Ho sbattuto la capa. Che palle, ma non è possibile. Vediamo se quest'annata andrà meglio tra 3, 2, 1. Nel corso di un'intervista un reporter ti chiede chi sia la tua più grande ispirazione. Certo, perché io ho assolutamente idea di chi siano questi tre. Direi JJ Watt perché ha il nome simpatico. Ho comunque andato nettamente migliore rispetto alle precedenti. Siamo arrivati decimi in campionato, 5 intercettazioni, 5 sacchi e 95 tackles. Buono quello. Magari non buonissimo, ma comunque buono. E ora Tampa mi offre 35 milioni per 5 anni. Posso provare a chiedere più soldi? Assolutamente no. Finché non sono al top e finché ho una squadra buona, io accetto, non rischio di perdere il lavoro. Quindi ci sta. E la mia macchina si sta rompendo sempre di più, ma io continuo a ripararla finché posso. Lo so che ho 8 milioni in banca, però non mi vai ad andare a prendere una nuova auto. Ecco, niente nuova auto, però potrei prendere una nuova casa. Tra l'altro potrei guadagnare circa un milioncino extra dalla vendita di un quadro. Del famoso quadro che ho trovato in cantina all'inizio per giunta. Quindi il rullo di tamburi, nessuno lo vuole. Niente, Georgia O'Keef evidentemente fa abbastanza schifo a tutti. Meh, va che bellina. Casa futuristica. Ah, non posso prenderla. Che ingiustizia, incredibile. Devo pagare per comprare delle case che non utilizzerò mai. Vabbè, come non detto. Però posso comprare un intero palazzo. Cioè, guarda che figo. 10 camere da letto e 11 bagni. Ma cosa te ne fai, frate? Ed è pure messa di merda, quindi no, no, grazie. Continuo a vivere a casa dei miei. Vediamo di non distruggerci ad allenamento. Sto giro mi sono rotto una costola. E vabbè, che facciamo? Andiamo a... Eh, com'è che si dice? Fisioterapia, ecco. Dovrebbe essere a posto. Perfetto. È anche vero che il football è uno sport di contatto in cui la gente si mena di brutto. Facciamo un singolo allenamento per le esultanze? Oh. Non è successo niente, attenzione. Tentiamola di nuovo. Perché sì. Però vai di difesa? Benissimo. Sarà questo l'anno dell'MVP? Oppure ci toccherà aspettare ancora il rullo di tamburi? Oh. Cosa vuole George Turner? Il signor Giorgio sostiene di essere la mia anima gemella, semplicemente perché conosce tutte quante le mie statistiche. Tieni un autografo, amico. Allora, con tutto il bene di questo mondo, se devi fare del trash talk, non puoi scrivere praticamente l'odissea. Non puoi comporre un tomo di 1300 pagine. Non puoi farmi una frase, una frecciatina da quattro righe. C'è l'opzione ridi? No, non c'è. Vabbè, lo ignoro perché l'altra volta sono stato menato, quindi evito. Mentre qua un boss del crimine di Onolulu. Ebbè, effettivamente è pieno così di boss del crimine Onolulu. Grazie per i cinque migliori, ma evitiamo. Molto gentile. Siamo arrivati sesti. Quest'anno siamo andati molto meglio, soprattutto a livello individuale. Con più di 100 tackles che non eravamo mai riusciti ad effettuare. 12-4 al nostro record. Non abbiamo vinto un cazzo però. E vabbè. E io quasi quasi vorrei rischiare chiedendo una sorta di trasferimento ad un'altra squadra. Una delle top. Tipo i New York G's sono qualche anno che stanno in cima alle classifiche. Quindi, boh, proviamo a chiedere un trade. Ce l'hanno fatta, hanno accettato. Attenzione. Regà, si va a New York. Pipo Pog. Dai che magari si riesce a vincere qualcosa. Mo' alleniamoci per bene perché non vorrei arrivare rotto. Per questa mia, cos'è, sesta, settima stagione. Anzi, soprattutto vorrei arrivare più che in forma. Ok, abbiamo maxato il tackling. Forse l'anno prossimo maxiamo anche il defending. Anzi, se tutto va bene, già quest'anno forse. Soprattutto se non ci infortuniamo. Oh. Non l'abbiamo maxato. L'anno prossimo lo si fa. Proviamo le esultanze. Basta che io non mi distrugga. Altrimenti probabilmente vado a picchiare qualcuno. Ok, è andata bene. Allenamento 2. Mamma mia, che culo. Vai, avanza. Vediamo questa prima stagione con i New York G's. La mia ragazza è incinta. Tienilo, tienilo. Per me va bene. Lei non lo vuole. Ok, va bene. Corpo tuo decidi tu. Io ho dato la mia opinione. Giusto così. È quarto e quindici con quattro minuti alla fine. Fourth and fifteen. Cosa significa? Devo decidere cosa fare. Se coprire due difesa, tre difesa, oppure attaccare otto blitz, oppure prevenire. Come diceva sempre la mia mamma, prevenire è meglio che curare. Abbiamo intercettato il pallone e abbiamo vinto la partita. E vai, scazzo. La scelta è stata giusta. Sono stato bravissimo. Ma non è che è stato bravissimo in realtà. È stata una scelta dovuta alla mia profondissima conoscenza dello sport. E siamo arrivati secondi. Ma porca minchia, che sfiga. Stai a vedere che siamo arrivati secondi per una ragione stupidissima. Tipo, che ne so, l'ordine alfabetico. Cinque intercettazioni, sei sacchi, 133 taccol. Stai, abbastanza per vincere MVP magari? Eh, certo. Il coach mi ha convocato nell'ufficio per dirmi che se continuo a giocare così come sto giocando avrò un gran futuro come allenatore di una squadra delle superiori. Fra, forse tu non hai idea di quanta gente guardi il football delle superiori in America. C'è un botto di gente. Quindi grazie per il complimento, I guess. Alla fine chi ha vinto? Hanno vinto i San Francisco Rainbows. Perché? Perché hanno vinto una partita in più. Ok, allora ci sta. No, comunque ci sta. Stiamo andando bene. Stiamo migliorando sempre di più. Guarda la crescita di anno in anno. L'anno prossimo saremo uno dei migliori del campionato. Quindi bene così. L'importante è rimanere allenati e non farsi male, vero? Va che bello che ho maxato anche il defending. Forse è calato un attimino il tackling, quindi lo rialleno. Maxiamo anche le esultanze perché siamo stronzi. Già che ci sia... E mi sono distrutto di nuovo il crociato. Che bello. Due volte il crociato perché volevo imparare a esultare bene. Grande. Dai, seconda stagione con i G's. Vediamo se va un po' meglio. Sicurio... Devo dare io un consiglio al coach su come aumentare i guadagni per la squadra. Ma io sono un giocatore. Ho studiato informazioni dei sistemi all'università, eh. Non è che abbia fatto chissà cosa. Comunque è la mia faccia sulle palle. Faccia sulle palle. E mi sono dislocato la mascella durante una partita con i Philadelphia Beagles. Aia! Provo a resistere, però aia, frate! Eh, io ci ho provato a finire la partita, ma è tosta. Aia! A me è successa una cosa simile, una roba come 12 anni fa. E ancora oggi la mia bocca fa suoni stranissimi, sentite? Aia! Fa male! Cioè, non a me farlo. Oh, comunque abbiamo vinto. Ho missato 12 partite per essermi distrutto il... Il... Quello? Il legamento crociato anteriore. Ma abbiamo vinto il campionato. Woohoo! Primo anello per NFL. Il tuo contributo minimo. Però c'è stato. Grandi, ragazzi. Primo anello. E ora, siccome fa fico farlo. Keisha. Ciao, ti faccio la proposta di matrimonio con questo magico anello della vittoria del mio primo campionato. E faccio la proposta su una gondola. Vai, vai. Ha accettato. Ciao Keisha, sposiamoci. Ma assolutamente voglio un accordo per matrimoniale. Per chi non ha un'idea di cosa tu faccia nella vita. Fai la hostess. Ok. Guadagni circa 40.000 euro all'anno. Va bene. Io faccio 8 milioni all'anno. Che qua, in questo gioco, ogni volta che ti becchi qualcuno che guadagni un minimo in più di te, ti propongono sempre l'accordo per matrimoniale. Allora, sai una cosa? Mostro accordo me lo firmi anche tu, ok? Ah, l'ha accettato. Clamorosamente. Mi aspettavo che lo rifiutassi e poi avrei fatto una litigata. Ci saremmo lasciato... Cioè, mi avrebbe fatto ridere. Invece, vabbè. Dai, già che ci sono, ma posso comprarla una casa oppure no? Abbiamo ancora quelle schifose. Questa è messa bene. 8 camere da letto, 6 bagni. Ma sì, dai. Ha detto che c'è troppo traffico. E va bene. Allora, come non detto. Ma era bellina. Uh, bella è una casa infestata. Siamo sotto Halloween. Pure bellina. Vediamo cosa dice. Lei è d'accordo. Va bene. Comprala, comprala. Comprala col cash. Cazzo te ne frega. E ora quindi viviamo in una sorta di... Come dire? Di castello infestato da dei fantasmi. Ma tra l'altro posso anche vedere chi sono i fantasmi. Abbiamo Esther e Mark Twain. Ma come Mark Twain? Fra, aspetta che provo ad evocarlo. Cosa vuol dire? Cosa sto facendo? Niente, non è arrivato. Mentre lo spirito di Esther apparirà, secondo voi. No, niente. Neanche Esther. Come non detto. Vabbè, torniamo ad allenarci a giocare. Magari è quello il nostro lavoro, no? Scusate, ho visto bene. Sono morto perché ho fatto... Un'operazione chirurgica per sistemarmi la mascella dislocata. Ma com'è possibile? Ma stai scherzando? Ma sei stronzo? Vabbè, raga, io ci rinuncio. Che cazzo devo dire? Ci ribecchiamo non appena ho di nuovo 28 anni. Che palle! Ma cosa significa che sono morto per un'operazione di questo tipo? Mio Dio, che roba stupida. Vabbè, sentite. Fatemi tornare 28enne nell'NFL. Vediamo come vanno le cose. One hour later. Ehi, salve, bentornati. Come potete vedere, Eneifel 2 sta avendo molto più successo rispetto all'originale Eneifel. E questo perché oltre ad aver vinto un anello con un anno di anticipo, mi sembra, rispetto al personaggio scorso, questo addirittura ha vinto l'MVP delle Finals. Bello, che fico, siamo i più tosti. Tra l'altro viene pagato infinitamente di più perché al posto di un contratto da 5 anni a 35 ne ho ricevuto uno da 7 anni a 70. Quindi prendo 10 milioni invece che 7, il che è ottimo. Tra l'altro ho giocato sempre e soltanto con un'unica squadra, ossia i Baltimore Ravers, che all'inizio hanno fatto schifo e poi pian piano, anche grazie alle mie performance, sono migliorati sempre di più. Andate tutto sommato simili a quelle che abbiamo vissuto nella vita precedente. Però poco importa, perché qua sta andando meglio. Sapete qual è la differenza? Non ho una casa infestata. E ora, durante lo spettacolo dell'intervallo, Lady Gaga ti porta sul palco per performare con lei. Cosa fai? Fai il hokey pokey. Non so cosa sia hokey pokey, ma va bene anche quello. Back to back campioni NFL. E con queste statistiche, senza dubbio, migliori rispetto a quelle dell'anno prima, devo per forza aver vinto un altro MVP. Oh, eh? Non era quello che mi aspettavo. Niente MVP sto giro. Ma perché? Ho fatto un'anata migliore. Ma sei scemo. Forse mi sarei dovuto allenare. Siamo arrivati quinti quest'anno. Che schifezza. Però ho vinto il D.P.O.Y. Bene. Terzo titolo individuale insieme all'altro D.P.O.Y. e all'MVP. Abbiamo tre anni di contratti e mancano ancora due titoli per raggiungere il mister. Il cazzo si chiamava. Tom Brady, ecco. Marò. Tearless fa video riguardo Topic che non conosce affatto. Episodio 2513. Palle fredde. Palle. Ah, ma non le nostre palle. Le palle da football. Eh, vabbè. Tu e i tuoi compagni decidete di rimuovere un attimino di tensione con una mucchiata. Grazie, ma no grazie. Non è nel mio stile. E quest'anno arriviamo sesti. Cazzo! Stiamo calando, stiamo calando. Ho bisogno di chiedere... Ah, mi hanno scambiato loro. Ma perché Baltimore? Dopo 15 anni mi cacciate via così. Bastardi, ora mi lamento. In realtà sarei andato io stesso a chiedere il cambio a un'altra squadra. Ma una di quelle serie, cazzo. Non si atto, per favore. Fatemi andare da San Francisco. Pittsburgh, magari? No. Pittsburgh tendine di carne. Niente, quest'anno lo giochiamo in questa nuova città che non ricordo neanche quale sia. Seattle! Bella Seattle, però. Tra tutte le città forse è una delle poche carine. E mi sono distrutto la clavicola! Purtroppo Seattle arriva sesta, voglio vedere cosa hanno combinato i nostri. Tie, Baltimore, tie, tredicesimi, bastardi, così imparate a cacciarmi via. Ho passato con voi 16 stagioni durante le quali mi ha vinto 5 titoli e mi cacciate via così senza neanche pensarci un attimo. Che pezzi di merda. Comunque mi rimane l'ultimo anno di contratto, quindi... Vai, simula quest'ultimo anno, poi simula. Cos'è? FIFA. E siamo arrivati secondi, non ci credo, secondi. E tra l'altro Seattle ci rilascia anche. Ah, però attenzione! Houston ci dà un ultimo anno a 12 milioni e 2. No, fra. Mi spiace, sono disposto a tornare a giocare soltanto per una singola squadra. In realtà due. La prima sono i Tampa Bay Buckles, campioni in carica, vediamo se mi... Eh, no, il cazzo. Invece sì, mi hanno offerto un contratto da 8 milioni... Vai subito! Non so cosa potrò fare per questa squadra, farò pochissimo, quarantenne, ormai sul viale del tramonto, però io ci provo. Voglio il sesto anello, voglio il sesto anello, datemelo ora. Siamo arrivati i sesti, come non detto. E hanno vinto i Carolina Painters, ma che cazzo? Mentre i nostri amici di... Non ricordo neanche che scuola fosse. I Ravens, ecco, dove minchia stanno? Baltimore, dodicesimi, ragazzi. Un ultimo anno, me lo fate fare? No, non me lo fanno fare. E niente, regà, la nostra carriera finisce così. Ricapitolando, cosa abbiamo vinto? Cinque titoli a Ney Fell, due Finals MVP, due difensori dell'anno e un MVP. Non c'è male, Eney, non c'è male, complimenti. E comunque no, non è sufficiente per superare Tom Brady nella classifica del GOAT, del Greatest of All Time. Peccato, però... Sì, non... Eh, ci ho capito un cazzo. Un'altra st fa questo. Sì, non c'è male, è rata tra l'arte. Grazie a tutti.